Grande svolta per una storica dama di uomini e donne. Probabilmente non sarà presente nel programma a partire da settembre Da alcune settimane a questa parte sono molte le notizie secondo cui si parla di un nuovo flerz per un volto molto conosciuto in uomini e donne Pare infatti che questa frequentazione possa addirittura spingere la dama a non partecipare alla prossima edizione del dating show di Canale 5 La maggior parte di siti e di magazine fanno riferimento ad un'amicizia affettuosa con un uomo misterioso e sembra che la coppia sia stata beccata dal settimanale nuovo Pare infatti che il volto del trono over sia stata vista in Romagna sulle spiagge insieme ad un uomo Che sia questa la fine della presenza della celebre dama nel dating show Celebre dama di uomini e donne paparazzata insieme ad un uomo, ecco chi è La donna di cui stiamo parlando è proprio lei, il volto simbolo di uomini e donne, Gemma Galgani Pare che molto probabilmente la donna non farà il suo ritorno durante la prossima stagione autunnale Infatti, sul settimanale nuovo leggiamo, colpo di scena, da una vita cerca l'uomo giusto in tv e alla fine lo pesca al mare In questi giorni la dama ha ritrovato il sorriso con un misterioso signore più giovane di lei Se fosse vero amore potremmo non rivederla più nello show di Canale 5 Punto e così sul settimanale veniamo a conoscenza del fatto che la storica protagonista del trono over è stata pizzicata in dolce compagnia con un sorriso stampato sul volto e con indosso un copricostume mentre passeggia accanto ad un uomo che stringe tra le braccia un cagnolino È stata lei stessa infatti a rivelare più di una volta che tutti gli uomini che aveva incontrato fino ad allora sono delle persone che non meritano di essere ricordate In base alle foto sembra che la persona che al momento è accanto a Gemma Galgani sia molto più giovane anche se sappiamo bene che la dama non ha mai fatto segreto di essere attratta dagli uomini che hanno molti anni meno di lei Se tra i due sbocciasse l'amore, la dama potrebbe lasciare definitivamente uomini e donne, programma in cui è presente ormai da 15 anni Per il momento gli scatti condivisi non lasciano credere che i due abbiano una relazione ma che siano soltanto amici Quindi, non resta che attendere settembre per vedere se tra i due vi è altro oltre l'amicizia Per il momento gli scatti condividono Per il momento gli scatti condividono